Ministro, qual è il sentimento di oggi alla prima giornata di quest'anno? Ovviamente non vogliamo perdere un minuto, per cui da qui al primo maggio sappiamo di dover ancora lavorare molto, però siamo a un punto fondamentale, abbiamo credo prodotto tanto fin qui, siamo nelle condizioni di poter dire che siamo alle porte di un grande appuntamento, si sta componendo quel puzzle complessivo fatto di progetti, iniziative, idee, protagonisti diversi da tutto il territorio nazionale e il fatto di realizzare in questa straordinaria sala a Firenze la seconda tappa dell'Expo delle idee è un po' la conferma che c'è tutto il paese attorno a questa sfida. Anche i partner privati hanno risposto, i partner pubblici, qual è la vostra opinione? Ma molto bene, perché alla fine si dimostrerà che Expo è una grande occasione per le imprese, per le associazioni, per le istituzioni, per le scuole, le università, i centri di ricerca, ci sono tanti progetti soprattutto legati all'innovazione tecnologica, al trasferimento dell'innovazione verso l'impresa, allo scambio di conoscenze anche tra università italiane e internazionali. Veramente saranno sei mesi di grande laboratorio sui temi fondamentali di Expo, la sfida alimentare globale, l'innovazione dei processi produttivi in campo agricolo e alimentare, il grande tema della sostenibilità. Veramente io penso che ore come queste rendono evidente la portata dell'occasione che avremo a Milano dal primo maggio.